Quel ragazzo cinese che solo in mezzo a piazza Tiananmen riesce a fermare tutta una fila enorme lunghissima di carri armati è forse una delle immagini più significative della voglia di libertà di un popolo e bisogna ricordare che in quei giorni Deng Xiaoping che guidava il partito comunista cinese rispose alle proteste alla voglia di democrazia dei giovani con una spietatezza inusitata ma Deng Xiaoping è anche quello che ha aperto la Cina al mercato che ha iniziato quella fase di cambiamento senza scossoni come ad esempio invece avvenuto in Russia e che ha portato la Cina in qualche misura a occidentalizzarsi e tra luce ed ombre entrare nella comunità tra virgolette dei paesi più avanzati sempre ovviamente tra luce ed ombre perché ancora oggi sappiamo che ci sono delle contraddizioni forti. Ecco allora il problema della gestione di un cambiamento come è avvenuto in Cina si pone drammaticamente oggi con tutto quello che sta avvenendo in Medio Oriente. Oggi di fronte al caos alle guerre vediamo ad esempio in Libia o in Siria ci si chiede se invece se non fosse stato giusto lasciare che quei paesi venissero ancora governati dai dittatori perché l'illusione che la democrazia possa in qualche modo fiorire senza un travaglio certamente rimane un'illusione. Ecco quindi noi oggi ci domandiamo di fronte ad esempio alla Libia è stato giusto ammazzare Gheddafi? È una domanda di non facile risposta. Certamente però quando il popolo chiede libertà beh insomma è difficile poi per la realpolitik chiudere gli occhi.